ciao a tutti e bentornati sul canale eccomi finalmente con il video dove vi voglio spiegare come sarà la programmazione delle prossime settimane la prima cosa che vi voglio spiegare è perché sto facendo questo video in questo modo e non inquadrandomi come ho fatto negli altri questo sta avvenendo per un motivo molto semplice quindi non ci sono motivazioni strane o astruse dietro ovvero perché il posto dove ho sempre registrato i video in cui mi inquadro è nel mio salotto di casa in questo momento fa veramente molto molto caldo come d'altronde ha fatto molto caldo anche durante questo mese questo è anche il motivo per cui non avete visto classifiche o video di questo genere ma solamente recensioni semplicemente perché per avere una luce decente e quindi fare un video fatto bene avrei dovuto tenere tutto aperto e di conseguenza in casa sarebbe entrato un caldo fotonico e probabilmente mi sarei sciolta lì mentre registravo quindi adesso passo a spiegarvi la programmazione delle prossime settimane e ci saranno delle succulente novità di cui vi parlerò tra poco da domani cominciano ufficialmente le mie ferie quindi sono a casa da lavorare e lo sarò per ben tre settimane durante la prossima settimana però sarò impegnata a fare qualche lavoretto qui in casa e con l'aiuto di mio marito andrea sposterò tutta la mia collezione di pop in un'altra stanza della casa contate che fino adesso sono in cima alla mia libreria che è molto capiente ma per tenerli lontano dalla luce del sole lontano dalle grinfie dei gatti sono arrivata ad ammassarli e ormai veramente non ci stanno più inoltre per usarli come sfondo in tutti i video che avete visto fino adesso dove mi inquadro io ogni volta li ho dovuti tirare giù da lì e impilarli sul mobile che ha usato per riprendermi quindi la cosa cominciava a diventare effettivamente troppo laboriosa e abbiamo trovato un'altra soluzione che però vi farò vedere molto molto presto per questo motivo la settimana prossima non ci saranno video quindi il canale si prende una settimana di pausa ma dato che le successive due settimane io sarò a casa sarò prontissima per registrare tanti nuovi video perché avrò tanto tempo da dedicarci o meglio tanto tempo in tranquillità e non sempre incastrato in tutto il resto di quello che io devo fare normalmente durante le mie giornate e quindi vi farò vedere tutte le novità che sto malvagiamente progettando da svariate settimane quindi con la recensione di oggi io vi auguro buone vacanze ci vediamo la settimana prossima con dei video nuovissimi vi auguro una buona settimana riposatevi se potete divertitevi e buona estate ciao ciao